Io voglio sperare che quel tuo lungo respiro ti sia servito a qualcosa, perché so per certo che hai fatto esperienza su tutto ciò che hai sentito, che hai subito finora. Per te sarà anche un po' difficile, chi lo sa, saper voltare pagina, ma fidati, nessuno è perfetto, nessuno. Se vuoi stare a sentire a qualcuno ovviamente, sai sentire sempre e soltanto i tuoi amici, le persone che ti stanno accanto e che ti vogliono veramente bene. Sono queste le belle pagine che uno vuole sentire, che vuole leggere e ascoltare tutti i giorni. E lo fanno anche con tanta passione, con tanto piacere, perché è l'unica medicina per uscire fuori dalle cose brutte e da una cosa che si tormenta, la tristezza. Presto, prima o poi, ci metteremo una pietra su, su questa cosa qui brutta, tristezza.